Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono una coppia felice ed unita ormai da sei anni. Chi non ricorda il clamoroso esploat di Filippo quando andò a riprendersi la sua amata davanti alle telecamere del reality La Talpa? Per i due sembrerebbe arrivato il momento di compiere il grande passo e Pamela spiega, in un'intervista a DPU, che sono state anche le parole di Papa Francesco a convincerli a regolarizzare la loro unione e a sposarsi. Proprio così, sia Filippo che Pamela sono molto credenti e le parole del pontefice sul matrimonio li hanno scossi, convincendoli a programmare la loro unione davanti a Dio e di seguito a formarsi una famiglia.